Ogni punto d'arrivo è un punto di partenza ed è bello celebrare i propri successi, celebrare il punto dove siamo arrivati e poi dopo guardarci intorno e capire dove si può andare, capire cosa si può fare di più, capire cosa si può fare di più insieme però ad altri. E' bello aprire nuovi sentieri, ma per aprire nuovi sentieri devi prima arrivare in un punto dove il sentiero non c'è, passando sul sentiero che qualcun altro ha già tracciato prima di noi. Noi pensiamo che sia veramente sciocco reinventare la ruota ogni volta, è per questo che crediamo nella collaborazione, perché se io ho scoperto qualcosa, tu hai scoperto qualcosa e mettiamo insieme le due scoperte, possiamo insieme partire e costruire qualcosa di nuovo. Noi crediamo nella collaborazione, crediamo nell'attività economica, crediamo nell'autoimpresa, crediamo nel fare cose, ma non siamo i primi ad aver creduto in questi concetti. Certo, noi pensiamo di averli messi insieme in una maniera che funziona, noi sappiamo di averli messi insieme in una maniera che funziona. Il modello multifattori è questo, mette insieme il concetto di collaborazione in mutuo aiuto, mette insieme il concetto di lavoro, di attività economica, mette insieme il concetto di soddisfazione personale, di conquistare dei risultati, di conseguire qualcosa di bello per se stesso e per gli altri, mette insieme il concetto di superamento delle strutture verticistiche, quindi il concetto di governance orizzontale è alla base. Allora, sono tre concetti che esistono, esistevano già prima che noi li mettessimo insieme, chiaramente, anzi, noi li abbiamo messi insieme proprio andando a guardare, esplorando quello che altri avevano fatto, guardando come altre esperienze si erano strutturate, come avevano affrontato determinati problemi. e li abbiamo messi in un modo originale, ma non pensiamo di essere stati gli unici ad averlo messo insieme in quel modo, perché il fatto di mettere insieme questi concetti sarà venuto anche ad altri. Ecco, alcuni di questi li abbiamo incontrati, ci collaboriamo, sono amici, altri non li abbiamo scoperti, non li abbiamo ancora scoperti, e quindi quello che noi vorremmo tanto, quello che ci piacerebbe tanto, sarebbe entrare in contatto con altre persone che hanno messo insieme nei propri progetti e, possibilmente, nei propri modelli, esattamente questi concetti che abbiamo messo dentro noi con il modello Multi Factory. Perché se altri hanno avuto esperienze simili, e se altri hanno costruito modelli per replicare e per indicare una via per costruire esperienze simili, insieme possiamo andare oltre e fare qualcosa di molto bello. Quindi, se conoscete qualcuno, o se siete qualcuno, che ha fatto, immaginato, sperimentato qualcosa di simile al modello Multi Factory, saremo tanto felici di conoscervi e di confortarci.